I incidenti ferroviari si susseguono con impressionante frequenza in Francia. Nei pressi di Chateau-Rue, il rapido Parigi-Tolosa si è scontrato con un treno merci che avendo deragliato era venuto ad ostruire le rotaie percorse dal treno viaggiatori. Il tragico incidente è avvenuto verso le 11 e un quarto di notte ed ha causato numerose vittime. Presentiamo un nuovo gioco.